Musica Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva, tante anche oggi le notizie che andremo ad approfondire nel corso di questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est. In primo piano la lite violenta che si è verificata a Pordenone con delle decisioni importanti assunte dal questore, il dottore Marco Dorisio che ha preso subito delle decisioni importanti con un'espulsione dal territorio nazionale e con il collocamento in un centro di permanenza. Due gli estranieri che si sono visti recapitare questo messaggio, ancora rissa nella notte ma nel Veneto, l'arrivo della ministra Lamorgese che arriverà proprio in Friuli Venezia Giulia, la conferma in queste ore, l'immigrazione legata alla situazione del Covid, aumentano i contagi, la situazione si sta facendo pesante non soltanto in Friuli ma ancora di più in Veneto, l'attualità e tanto altro ancora. Prima di proseguire i saluti che arrivano dai colleghi della redazione di Udine e della redazione del Veneto, voi la linea. Grazie Alberto e ben ritrovati cari telespettatori, anche questa sera molte le notizie per voi, è arrivato e ritornato nel frattempo il maltempo e si parlerà anche di questo ma anche di Covid con i quasi 10.000 tamponi eseguiti in regione dal 13 agosto ad oggi e i nuovi casi. E poi un fatto di cronaca legato comunque ai migranti, un ventenne scappato dalla Cava Arzerani per spacciare, ma parliamo anche dei finti turisti che in camper invece hanno come ospiti 26 migranti clandestini, poi una nuova app che arriva da Trieste per salvare gli oceani. Di questo e d'altro parleremo più tardi. A dopo. Grazie della linea, un saluto anche dalla nostra redazione del Veneto, una quarantina di richiedenti asilo arrivati nella notte a Porto Gruaro, ricerche da parte delle forze dell'ordine, la maggior parte dei migranti hanno fatto perdere le proprie tracce. Poi il coronavirus con 6.000 persone in isolamento e in Veneto orientale in tre giorni di test e tamponi da chi è tornato dalle vacanze dall'estero arrivano i primi risultati e anche i primi positivi. Nella notte invece ennesima rissa a Jesolo, ne parleremo tra pochissimo. Alberto, te la linea. La domanda allora che vi abbiamo posto nell'edizione precedente del telegiornale, leggiamo scuola, ennesimo cambio? No, non dovrebbe essere questo. Chiedo alla regia di mettermi in sovraimpressione la domanda corretta. Grazie, Covid-19, un solo contagio in classe. Mi è sparita la visione, ovviamente sono gli imprevisti. Chiedo allora di andare oltre. C'è la domanda di oggi o passiamo già alla parte dei servizi? C'è la domanda, allora. Leggiamo, Covid-19, un solo contagio in classe, sarà quarantena per tutti? Sei d'accordo? La domanda che vi poniamo in questa edizione è semplicissima, anzi direi a leggere la domanda appare semplicissima, ma la questione è davvero complessa e complicata, anche perché la scuola è uno dei settori che rischiano veramente di naufragare nell'incertezza della situazione sanitaria da Covid, non soltanto per il distanziamento, che sarà difficile assicurare il rispetto di un metro, la mascherina, ma soprattutto cosa capiterà se un alunno in classe dovesse risultare positivo al Covid-19. La risposta la data la ministra Azzolina ieri, ha detto se ci sarà un contagio in classe finiranno in quarantena tutti, quindi gli insegnanti che erano presenti, il personale che collabora, gli stessi alunni che erano magari vicini al ragazzino o al ragazzo o al bambino, di fatto è questa la situazione, quindi davvero è una questione che rischia di diventare ancora più grande, più importante rispetto a quella che già adesso. Ora io lo chiedo a voi, siete d'accordo? Siete d'accordo? C'è un solo contagio in classe e sarà quarantena per tutti, una misura eccessiva? Lo chiediamo, lo chiediamo a voi di fatto se ci potete rispondere. Allora, l'esito poi della domanda che avevamo posto nell'edizione precedente, lo leggiamo adesso, invece coronavirus, il titolare della discoteca chiude per colpa di un governo di incapaci, riferito al titolare del Pappette Beach, uno dei locali più gettonati della riviera romagnola, dove, lo ricordo, l'anno scorso Matteo Salvini diede fine al governo Conte 1. e ha detto, anche voi, insomma, di fatto la pensate come lui, l'89% tossì, è un governo di incapaci, l'11% invece ha detto no, è un governo che, insomma, sa quello che fa. Apriamo allora il telegiornale, litigano violentemente in centro a Pordenone, disposto il collocamento in centro di permanenza per impatrio ad un cittadino afgano e l'espulsione dal territorio nazionale ad un cittadino pakistano. Apriamo così il telegiornale. Litigano violentemente in centro a Pordenone. Per un cittadino afgano è stato disposto il collocamento in un centro di permanenza per il rimpatrio, mentre per un pakistano il questore ha emesso il decreto di espulsione dal territorio nazionale. Questi due provvedimenti sono stati emessi in seguito alla rissa avvenuta domenica, poco dopo le 23. I cittadini che si trovavano nelle vie del centro hanno segnalato alla sala operativa della questura che tre giovani si stavano malmenando. Subito sono stati mandati due equipaggi della squadra volante per verificare e controllare la situazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un 23enne cittadino pakistano con una ferita all'altezza del ginocchio, il quale ha raccontato di essere stato picchiato da altri due giovani. I motivi non sono chiari. Una volta raccolta la descrizione degli aggressori, gli agenti hanno perlustrato la zona individuando un 22enne afgano che si trovava in evidente stato di ebrezza alcolica. Durante il controllo da parte dei poliziotti, il giovane non ha mostrato atteggiamento collaborativo, divincolandosi nel tentativo di fuggire. Questo è stato poi identificato come richiedente asilo in attesa di ricevere il risponso dalla commissione competente. Nel frattempo è stato rintracciato anche l'altro aggressore, un ventenne pakistano, titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, scaduto e senza attiva richiesta di rinnovo. I due giovani sono stati quindi accompagnati negli uffici della Questura, dove si sono rifiutati di fornire i documenti e le proprie generalità. Hanno persino strappato i moduli dove erano stati riportati i loro dati. Dai controlli è emerso che entrambi avevano già precedenti di polizia in materia di stupefacenti, lesioni, rapina e furto. Dunque, a seguito degli approfondimenti effettuati dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone, il questore Marco Odorisio ha ordinato che il 22enne afgano fosse accompagnato e trattenuto al centro di permanenza per il rimpatrio di Makomer, in provincia di Nuoro, mentre per il ventenne pakistano è stato emesso un decreto di espulsione con l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni. Questa mattina, gli agenti della Questura di Pordenone hanno quindi imbarcato e scortato richiedente asilo su un volo decollato dall'aeroporto Marco Polo di Venezia, con destinazione Olbia. Rissa tra giovani nella notte a Jesolo, nel cuore della Movida, un turista in prognosi riservata, il sindaco Zoggia, i giovani hanno perso il senso del limite. Il servizio. Pugni e calci nel cuore della Movida di Jesolo. Ancora un episodio di rissa la notte scorsa in Piazza Mazzini, luogo del divertimento per eccellenza della località balneare. Ad affrontarsi due gruppi di giovani, per ragioni che sono al vaglio della Polizia di Stato, intervenuta sul posto e che ora sta procedendo, grazie alle immagini di videosorveglianza, all'identificazione dei protagonisti. I ragazzi coinvolti sarebbero all'incirca una trentina, tra italiani e stranieri. Ci sono stati diversi feriti, curati al pronto soccorso della cittadina balneare. Uno invece si trova in prognosi riservata all'ospedale di Sandona di Piave, con diverse fratture. Si tratta di un trentenne alto attesino. Su questo nuovo fatto, dopo quanto accaduto anche a inizio stagione a Jesolo, è intervenuto il sindaco Valerio Zoggia. La città valuta la richiesta di risarcimento per il danno di immagine, ma il sindaco lancia anche un appello alla società e alle istituzioni. Quanto accaduto la notte scorsa a Jesolo dice, quello che accade sempre più spesso un po' in tutto il paese, mi porta a dire che i giovani hanno perso il senso del limite. Troppo spesso la ricerca del divertimento sembra passare per l'abuso di alcolici. Troppo spesso la risposta a uno sguardo di troppo o a una frase sbagliata passa per la reazione fisica e violenta. E questo accade non solo tra i giovanissimi, ma anche tra gli adulti, dai quali ci si aspetta maggiore senso di responsabilità, di maturità. A tutto questo, conclude il sindaco, non si può continuare a dare responsabilità alla politica o alle forze dell'ordine. Occorre che tutti si sentano parte dell'educazione dei giovani. Nessuno può chiamarsi fuori. Intanto la ministra Lamorgese arriverà in Friuli Venezia Giulia dopo il 24 agosto per provvedere ad interventi diretti del governo nelle situazioni più complesse. Lo ha annunciato quest'oggi l'onorevole ex presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Seracchiani. Non sembra essere stato in vano il viaggio del sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo, che ieri, con l'obiezione di molti che non consideravano legale la decisione del primo cittadino, ha caricato a bordo di un furgone cinque migranti, tutti dichiarati si minorenni, rintracciati dalla Polstrada due notti fa, alle 3.30 circa, nella zona del cantiere della terza corsia dell'autostrada. Il suo viaggio avrebbe dovuto concludersi a Roma. La sua destinazione era infatti Palazzo Chigi, ma si è dovuto fermare a Bologna, dove è stata trovata una sistemazione ai ragazzi in un centro di accoglienza. Tuttavia immediata è stata la reazione del ministro Lamorgese, che arriverà in Friuli Venezia Giulia nei prossimi giorni. Il ministro sarà in regione dopo il 24 agosto, ha riferito la deputata Deborah Serracchiani, dando conto di quanto emerso da un colloquio con la titolare dell'interno sui problemi connessi ai flussi migratori in Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati. Nel pomeriggio di oggi il capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, insediato ieri nel suo ruolo, ha tenuto una riunione in videoconferenza con i prefetti del territorio regionale. Intanto in tutta la regione rimane alta l'attenzione nei confronti dei flussi di migranti che da qualche settimana stanno mettendo in serie difficoltà alcuni piccoli comuni della regione, costretti a gestire una problematica tutt'altro che semplice, alla quale si somma l'emergenza sanitaria in corso e che prevede l'impiego di risorse che le piccole amministrazioni non hanno a disposizione. Nella sua nota odierna, l'onorevole Serracchiani ha dichiarato di aver rilevato nel ministro un'attenzione particolarmente alta verso le aree toccate dal fenomeno dei flussi migratori e una volontà di intervenire direttamente sulle situazioni più complesse, come ha fatto con il viaggio in Tunisia. Immigrazione, una quarantina di richiedenti asilo arrivati nella notte a Porto Gruaro seguendo la rotta balcanica, alcuni hanno fatto perdere già le proprie tracce. Un gruppo di richiedenti asilo è arrivato questa notte a Porto Gruaro. Si tratta di una quarantina di persone. La maggior parte di queste ha fatto perdere le proprie tracce nonostante le ricerche durate per ore delle forze dell'ordine. La delegazione sarebbe arrivata a bordo di un camion secondo quanto riportato da una nota ufficiale del comune. Il mezzo avrebbe fatto scendere i migranti nelle vicinanze di Viale Pordenone. Siamo in prossimità del casello autostradale cittadino. Sul posto, a seguito di apposite segnalazioni, è arrivata la Polizia di Stato che ne ha preso in carico una decina per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento. Si tratta per questo gruppo di cittadini pakistani sottoposti anche a controlli sanitari da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss4. Gli altri si sono quindi resi irreperibili. Il fatto fa tornare alla ribalta anche per Portogruaro il tema della rotta balcanica di cittadini extracomunitari. Il sindaco Maria Teresa Senatore ha espresso alla Prefettura tutte le preoccupazioni a partire dalla necessità di prendere misure efficaci per fronteggiare il problema anche in considerazione del particolare momento collegato all'emergenza Covid-19 intensificando i controlli sin dalle zone di confine e lungo l'asse autostradale che partendo dalla Slovenia arriva anche alla città dell'Emene. Parliamo adesso della situazione dei tamponi e dei contagi da Covid-19 in Regione Friuli Venezia Giulia. Su Twitter il noto social Riccardi, il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato due nuovi casi tra i migranti. E mentre salgono a quasi 10.000 le richieste di tamponi arrivate dal 13 agosto ad oggi alle aziende sanitarie della Regione come conseguenza dell'entrata in vigore dell'ordinanza emessa dal Ministero della Salute per tracciare le persone che rientrano in Italia e provengono da Spagna, Croazia, Malta e Grecia le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia crescono di 6 rispetto a ieri e si attestano a 212 casi. Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 5 sono invece ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi. Oggi sono stati rilevati 10 nuovi contagi di cui 8 contratti fuori Regione. Intanto il vice governatore Riccardo Riccardi ha riferito che due migranti tra quelli rintracciati ieri in provincia di Udine sono risultati positivi al Covid-19 dopo essere stati sottoposti al tampone come da prassi. Il Dipartimento di Prevenzione ne ha prontamente disposto l'isolamento. Dunque, torniamo a trattare un tema già affrontato nella precedente edizione il tema delle successioni. Io ringrazio e saluto l'Avvocato Alessio Pagnucco grazie Avvocato per essere tornato in nostra compagnia. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Dunque, viene a mancare una persona e sembra che questa non abbia eredi. Cosa succede qualora non si trovino eredi che possono o che vogliono accettare? È un campo un po' minato, lo so, però so che è altrettanto bravo lei a essere semplice e soprattutto anche sempre sul pezzo che riuscirà a spiegarci effettivamente come stanno le cose. Sicuramente il campo è minato e sicuramente può aprirsi un mondo dietro a questa domanda. Tuttavia, dobbiamo ricordare una cosa, la nostra bussola. La nostra bussola è sempre il Codice Civile ed è sempre l'equità. Il diritto è fondamentalmente l'arte di essere giusti ed equi. Cosa succede quando viene a mancare una persona e i soggetti chiamati all'eredità non possono oppure non vogliono accettare? Dobbiamo ricordare, direttore, che famiglia ed eredità sono strettamente correlati, intimamente correlati, in tutti gli ordinamenti giuridici. A partire dall'impero romano e dalla meravigliosa riforma che è stata fatta dal Giustiniano, noi possiamo inquadrare la successione in quello che è la famiglia. Nell'impero romano e nella civiltà romana ben ricordiamo che c'era il pater familias, egli governava e disponeva del patrimonio. Ora, andare a trovare quella sottile linea rossa che ci conduce fino ad oggi ci deve far riflettere su quello che è un caso per l'appunto di eredità giacente, giacente, jacet e ferma. Quindi manca di quella meravigliosa compulsione e di quel istinto che ha l'uomo, l'imprenditore, l'artigiano. Noi dobbiamo immaginare un caso concreto, come al solito. Immaginiamo quindi che venga a mancare una persona, questa persona lascia un patrimonio attivo oppure può anche lasciare un patrimonio in forte passività. Se questa persona ha dei soggetti che rifiutano l'eredità oppure semplicemente ignorano completamente che la persona sia mancata, i beni e i rapporti giuridici della persona defunta cadono in una sorta di limbo. Cadendo in una sorta di limbo è logico che il tribunale, l'organo che è deputato a risolvere tutte le situazioni in cui vi può essere un impasse giuridico, deve andare a nominare un curatore, quindi un soggetto che faccia l'inventario dei beni che sono stati lasciati, dei beni o delle passività naturalmente, e vada a contattare i soggetti che eventualmente possono accettare l'eredità o se non ve ne sono o proprio hanno rifiutati, proceda alla liquidazione. Andiamo per l'appunto al caso concreto. Anni fa una signora venne a mancare in una casa di riposo. Questa signora lasciò un buon patrimonio, sia di beni immobili che di denari. Purtroppo non aveva figli, non era sposata, c'era solamente una sorella che ahinoi non riusciva a comprendere quale fosse l'entità delle beni lasciati e rifiutò l'eredità, il tribunale nominò un bravo avvocato come curatore. Questo bravo avvocato fece l'inventario, cercò di convincere la sorella ad accettare, ahimè non ce ne fu verso, andò addirittura in cimitero dove c'era la tomba della compianta signora ad affiggere un cartello se qualcuno ha notizie di persone che possono accettare l'eredità, contatti l'avvocato, eccetera, eccetera. Nessuno si fece avanti. Cosa avvenne in questo caso? Dopo dieci anni dalla morte della signora subentrò lo Stato. Lo Stato dopo dieci anni va a incamerare i beni e i rapporti patrimoniali, naturalmente andando a rispondere nei limiti della attività, non andando ad assumere i debiti, in quanto lo Stato, dobbiamo ricordarlo, lo Stato siamo noi. Paperon de Paperoni diceva che chi lascia un'eredità molte volte lascia dei beni che vanno a creare confusione e per quello Paperone li assumeva sempre a sé, ma lo Stato non è questo. Lo Stato riassume in sé quelle che sono le tre luci, le luci della forza, le luci della bellezza, le luci della sapienza e lo Stato deve garantire anche la continuità dei rapporti giuridici e lo Stato va quindi a incamerare quelli che sono i denari e i beni immobili, non certo per arricchirsi, ma perché possano essere messi a disposizione della collettività. Devo fare una velocissima domanda, nel caso in cui l'eredità sia passiva, nel senso muore il parente e lascia una marea di debiti. Succede? Benissimo, succede perché ovviamente anche la crisi contingente potrebbe anche portare queste situazioni. L'erede può rifiutare oppure se assume di fatto, dice va bene, assumo il controllo, prendo quello che mi lascia, a che cosa va incontro? Certo, allora dobbiamo distinguere naturalmente diversi casi e li voglio molto semplificare. Il soggetto che è chiamato all'eredità non ha nessun obbligo di accettare l'eredità, bisogna fare però alcune precisazioni. La prima, se il soggetto che è chiamato all'eredità è nel possesso dei beni del defunto, esempio tipico, muore la mamma che convive con il figlio, e il figlio entro tre mesi non rinuncia all'eredità, si considera erede pure e semplice e quindi subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Qualora invece il soggetto non sia in possesso dei beni ereditari non c'è questo problema. Comunque il soggetto che è chiamato all'eredità può tranquillamente rifiutare l'eredità ed è una dichiarazione che viene fatta davanti a un notaio, davanti alla cancelleria del tribunale, oppure può anche accettare l'eredità con beneficio di inventario, sostanzialmente fa un inventario di attività e passività e dopo risponde dei debiti ereditari nei limiti di quello che ha ereditato. E parleremo ancora perché ci sono poi tanti casi particolari che meglio magari fanno comprendere ai nostri telespettatori l'importanza di sapere anche ai rischi eventuali in cui uno va incontro, si accetta o ovviamente anche d'altra parte se rifiuta l'eredità. Io ringrazio come sempre Alessio Pagnuco, il nostro amico avvocato, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Grazie mille direttore, buona serata. Tamponi per chi rientra dalle ferie all'estero, più di 500 i test eseguiti negli ultimi tre giorni. Nel Veneto orientale due positivi, la meta più gettonata rimane la Croazia. In Veneto orientale sono 513 le persone che a rientro dalle vacanze in Croazia, Grecia, Spagna e Malta tra il 15 e il 17 agosto si sono presentate nei due ambulatori allestiti tra San Donà e Porto Gruaro per effettuare i tamponi in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute che ne prevede l'obbligatorietà entro le 48 ore da rientro. Delle persone registrate nelle due sedi, oltre il 90% rientrava dalla Croazia, il 6,6% dalla Spagna, l'1,9% dalla Grecia, lo 0,6% da Malta. I risultati dei tamponi tracciano a oggi un quadro confortante dato che due persone sono risultate positive al Covid, lo 0,45% entrambe asintomatiche e poste in isolamento fiduciario domiciliare. Queste persone a rientro in Italia devono eseguire un tampone nasofaringeo entro le 48 ore e comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente. La nostra ULS ha attivato due postazioni, due ambulatori con accesso dalle 7 della mattina alle 13 e finora abbiamo eseguito 513 tamponi di cui finora dai risultati, dai referti che abbiamo avuto ci sono solamente due casi positivi. Restiamo allora in Veneto, lo facciamo con l'ospite in compagnia di Alessio Conforti, a voi la linea. Sì, grazie, con Maurizio Billotto che è presidente di Lega Ambiente Veneto Orientale nota una certa insofferenza secondo lei anche al rispetto delle norme, insomma sì si va in vacanza però bisogna anche cercare di rispettare quelle che sono insomma anche le indicazioni, pena un ritorno del contagio che effettivamente c'è, l'abbiamo visto anche nel servizio chi torna anche da altre località ma anche per chi rimane e questo è anche il punto della situazione. Ma è indubbiamente che ci sia insofferenza, lo si percepisce anche dai numerosi episodi che la cronaca ci riporta. Credo che come associazione ambientalista ci viene spontaneo sostenere la possibilità di divertirsi, di conoscere questo paese, di conoscere il territorio, quindi andare a riscoprire quei luoghi naturali, quelle bellezze che abbiamo, anche la modalità di fare turismo, bici, la barca, di nuovo tornare attraverso i boschi, riscoprire i luoghi di pianura anche per quello che abbiamo qua attorno a noi, la bellissima bonifica, quello che sembra un paesaggio noioso, ha molte cose da scoprire. Ecco, credo che il messaggio di questo coronavirus che ci ha messi un po' prima chiusi in casa e poi è partito il consiglio facciamo le vacanze in Italia, beh insomma i numeri che stanno uscendo ci dicono quanto mai sarebbe stato importante rimanere in Italia e fare le nostre vacanze, ripeto, perché è un paese molto bello, non serve andare molto lontano, il turismo di prossimità è un turismo che si può fare in qualsiasi momento, soprattutto anche in questo momento della nostra stagione e questa era forse l'occasione per riappropriarsi del nostro territorio, della bellezza del nostro territorio. Non è stato così fino in fondo, il messaggio magari non è stato recepito, sì, ci sono tanti amanti della natura che magari scelgono le mette alternative, però il turismo lento, forse si poteva fare qualcosa di più. Diciamo che il messaggio iniziale era tutto, non sarà più niente come prima, purtroppo è tutto peggio di prima, quindi non c'è niente di cambiato e il messaggio invece non si è sedimentato, c'è una voglia forse di uscita, di ribellione, c'è molta gente che spinge per il negazionismo e quindi questo è un danno, è un danno per una situazione anche come la nostra che fa ambientalismo scientifico, sentire la scienza messa in discussione dal primo che si sveglia al mattino con un post su Facebook è molto grave, questo non aiuta l'ambiente nel nostro aspetto, ma non aiuta neanche la qualità della nostra vita. Ricordiamo quanto si sia ragionato all'inizio sulla nascita anche di questo, la diffusione di questo ceppo di questi coronavirus che molto spesso nascono da zone dove c'è grandi consumi di carne, allevamenti intensivi, quindi anche la nostra abitudine, le nostre abitudini alimentari devono tener conto della pressione che facciamo sull'ambiente con il nostro sistema alimentare. Una delle cose più importanti che era stato chiarito fin dall'inizio è proprio la pressione della nuova espansione, l'espansione delle grandi città, delle grandi metropoli verso queste aree che sono le aree forestali, laddove non ci sono più i punti di filtro, di passaggio fra l'ambiente naturale e la pressione dell'uomo perché là vengono poi installati grandi allevamenti, ecco questo facilita le trasmissioni di virus che poi noi non siamo abituati ancora a combattere. Ci torneremo, grazie a Maurizio Billotto. Grazie a voi, grazie. In Veneto salgono ancora i contagi da Covid-19, 6.000 le persone in isolamento, vediamo allora l'andamento nella giornata di oggi. Sette persone ricoverate in terapia intensiva e 1.688 positivi in tutta la regione, questo è il bilancio odierno sull'andamento del coronavirus in Veneto. Il bollettino di Azienda Zero segnala oggi un totale dei contagiati che dall'inizio dell'emergenza è arrivato a 21.316 con 37 nuovi casi rispetto a ieri alle 17. In isolamento ci sono quasi 6.000 persone ma di queste i positivi che manifestano sintomi sono 133. Le province con più casi in Veneto sono nell'ordine Treviso, Padova, Venezia, Verona e Vicenza. Più tranquilla la situazione a Belluno e Rovigo. La pandemia da Covid-19 nel mondo è entrata in una nuova fase in cui è spinta da contagi nei giovani under 40 e con un maggior rischio per le fasce più vulnerabili. A dirlo Takeshi Kasai, direttore dell'Ufficio del Pacifico Occidentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in una conferenza stampa. L'epidemia sta cambiando, ha affermato, e le persone di 20, 30 e 40 anni stanno sempre di più pilotando la diffusione. Molti non sanno di essere infetti e ciò aumenta il rischio di contagio dei più vulnerabili. Andiamo allora con il prossimo ospite, lui è il dottor Mauro Capozella, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle. Dottore, ben ritrovato. Grazie, direttore. Grazie per essere in nostra compagna. Allora, le leggo un titolo di un giornale, le dico anche quale, un giornale che sicuramente non è molto morbido nei confronti del governo giallorosso, la verità, il giornale di Belpietro. Di Maio, la Morgese spennati dai tunisini, i ministri degli esteri dell'interno volano nel paese nordafricano per tentare di bloccare i migranti locali che hanno invaso le nostre coste. Risultato, altri 11 milioni di euro sborsati per aiutare il governo di Tunisi, ma gli effetti devastanti sono ancora agli occhi, sotto gli occhi di tutti. Allora, la domanda che le faccio, caro consigliere, è questa. Vale effettivamente continuare a spendere così tanti milioni di euro se poi i risultati possono sembrare, agli occhi magari della maggior parte dei cittadini, non edificanti proprio dal punto di vista del ritorno, proprio dell'efficacia dell'investimento fatto. Abbiamo sentito che magari la rotta mediterranea siamo riusciti un attimino a contenerla, ma la rotta balcanica ci sta mettendo dura prova. È vero, registro, leggendo anch'io le cronache e i bollettini quotidiani, un vero e proprio assedio, se possiamo chiamarlo così. Ora, che l'Italia, ancora una volta, per l'ennesima estate, perché poi il problema si fa cogente quando il mare è calmo e quindi d'estate, c'è questo problema invasione. L'Italia, ancora una volta, è sola, nel senso che non è un problema continentale e non è un problema europeo, è un problema italiano. L'Europa, ancora una volta, non si fa sentire e noi continuiamo a dover occuparci in beata solitudine di questo problema. I decreti sicurezza hanno verificato la loro inefficacia in termini di regole di ingaggio. Potevano essere considerati efficaci nei confronti dei grandi natanti, ad appannaggio delle ONG. Però si sono verificati in termini proprio di regole di ingaggio vani dal punto di vista di tutti quei barchini. Ci sono anche delle immagini nei porti siciliani e non solo siciliani, di questa miriade di piccoli natanti che arrivano alla spicciolata. Quindi stiamo parlando di una vera e propria invasione per quanto riguarda il mare. Di conseguenza l'unica soluzione che ha una politica internazionale, quella del nostro paese, è di andare in loco, cioè da dove partono, e cercare di potenziare anche con mezzi economici la possibilità di evitare l'imbarco nei piccoli natanti. E quindi politiche nel vero senso della parola di piccolo cabottaggio. Non credo al titolo della verità, nel senso che questa politica è in fieri, quindi i conti si faranno alla fine. Certo i numeri sono drammatici. Per quanto riguarda Regione Friuli-Venezia-Giulia, notizia di oggi, l'ho letto proprio stamattina sui giornali, che il Ministro Lamorgese ritornerà qui. Sì, sì, abbiamo dato infatti la notizia prima. Anche da questo punto di vista ne abbiamo parlato e riparlato per quanto riguarda la rotta balcanica, però anche qui c'è pirateria da parte dei passers, cioè di quelli che fanno caricare i migranti dentro i cassoni nei camion e poi, abbiamo visto, li lasciano in mezzo a una strada. Quindi anche da questo punto di vista c'è da potenziare le pattuglie miste cosiddette, una politica mai realmente perseguita, ma in questo momento deve essere perseguita perché si sta acuendo il fenomeno del... io la chiamo pirateria, quindi noi soffriamo di pirateria sia dal mare che, voglio dire, dalla terra per quanto riguarda la rotta balcana. Ecco, dottore, più volte il sindacalista, il vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato ha denunciato le gradi carenze che ci sono proprio nel comparto delle forze dell'ordine. Non pensa che questo governo, in mezzo alla crisi, perché state affrontando una situazione drammatica, non vorrei mai mettermi nei panni di Conte a gestire una situazione sicuramente che non conosce uguali dal dopoguerra in poi, non debba in qualche modo far sì che vengono assunti, quindi tramite concorsi, tramite gradutore, nuovi agenti. L'esercito, abbiamo capito che serve a ben poco se non c'è il carabiniere, il fidanziere e il poliziotto, c'è coloro che hanno anche il potere di polizia giudiziaria. Padrone dice, Salvini mi ha deluso, la Morgese, che fa parte del vostro governo, è sulla buona strada della delusione. Beh, secondo me è ancora presto per alzare bandiera bianca. L'amico Paragone, ci sentiamo spesso su queste tematiche e lui, come posso dire, invoca, invoca da tantissimo tempo, diciamo, un potenziamento in termini di uomini, di tutta quanta la polizia di Stato dislocata sul territorio. Buttare la croce sulla Morgese, no, questo qui è un dramma, è un dramma epocale, continua ad essere un dramma epocale, continua dal mio punto di vista ad essere un dramma continentale. L'esercito può essere utile per piantonare tutte quelle traiettorie, diciamo, via terra che non possono essere piantonate dalla polizia e lasciare quindi alla polizia e alle forze dell'ordine le grandi vie di comunicazione e di trasporto. Questo può essere fatto, quindi, sollevare il peso di tutte quelle strade, biotoli, voglio dire, anche di montagne, perché qui stiamo parlando anche del Carso, magari metterci lì l'esercito e lasciare le grandi vie di comunicazione alle forze dell'ordine ordinarie, se così si possono chiamare. Certo, le faccio un'ultima domanda, perché il tempo sta per scadere un po' più politica che riguarda il Movimento 5 Stelle, anche alla luce dell'ultima votazione emersa dalla piattaforma Russo. Dove sembra che siamo di fronte a una grande rivoluzione del vostro partito? Eravate debuttato come il partito del Vaffa, euroscettico, volevate addirittura uscire dall'Europa, adesso siete forza di governo. Sulle politiche migratorie eravate abbastanza, diciamo, timidi, possiamo dire. Adesso sembra che vi siete allineati un po' di più anche alla visione del centro-destra e della Lega e soprattutto, insomma, in Europa volete avere un peso maggiore. Soddisfatto di questa votazione? Molto, però vorrei correggerla su un punto, nel senso che il Movimento 5 Stelle non è mai stato anti-europeista. Abbiamo sempre detto no a questa Europa, un'Europa non solidale e l'Europa della finanza e l'Europa delle banche. A questa Europa abbiamo sempre detto di no. Parrebbe con l'emergenza Covid, diciamo, e questo dramma planetario, che l'Europa si stia rinsavendo e capisca che deve essere più solidale e che addirittura si inizia a parlare, non so se lei l'ha sentito, ma che si inizia a parlare di un Ministero delle Finanze europee, che è il grande vero crucio, nel senso che ad oggi si sono fatte politiche europee solo ed esclusivamente finanziarie, cioè pensando al lato delle banche. E invece si è visto una fiscalità che ogni Stato aveva la propria, anche a farsi concorrezza interna che poi si chiama dumping. Si sta finalmente iniziando a parlare di un Ministero delle Finanze europee per omologare il grande tema della riscossione e quindi di conseguenza una volta che c'è un'Agenzia delle Entrate europea che serve a redistribuire il reddito, potrà probabilmente forse parlarsi di Europa, Stati europei uniti per la prima volta. 15 secondi, perché volete dire no al MES? Quando i vostri alleati invece al Partito Democratico dicono benvenga questa misura? L'ho trattato anche in Consiglio regionale, ho dovuto mio malgrado studiarlo. In questo momento nessuna delle condizionalità contenute nei dettagli del MES è cambiata, quindi se noi accettassimo il MES lo dovremmo accettare con tutte le condizionalità che hanno portato la Grecia al suo storico default. Grazie, grazie dottore, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Ringrazio come sempre Mauro Capozella, consigliere regionale in Florio di Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle. Fermato alla guida con patente falsa, denunciato un 31enne cittadino dominicano, segnalata anche la compagna, una 28enne sempre di nazionalità dominicana, per possesso di sostanze stupefacenti. Il servizio. Circolava con patente falsa. Un 31enne dominicano è stato fermato e denunciato dalla polizia stradale di Pordenone, distaccamento di Spilimbergo. Domenica pomeriggio, sul raccordo autostradale di Fiume Veneto, è stata fermata un'autovettura con a bordo tre persone. Alla guida c'era un 31enne di nazionalità dominicana, residente a San Stino di Livenza in provincia di Venezia. I due passeggeri erano la sua compagna, nonché proprietaria dell'auto, una 28enne dominicana ed un cittadino italiano di 29 anni, residente alla Tisana, con precedenti per possesso di stupefacenti. Il conducente ha esibito una patente slovena che ha insospettito gli agenti. Infatti, hanno subito determinato che il documento era falso. Durante i controlli approfonditi della patente, la passeggera ha approfittato dell'apparente distrazione degli agenti per gettare un involico per terra. Notando questa mossa repentina, la polizia ha immediatamente recuperato ed ispezionato la busta, che conteneva 4 grammi di marijuana, come poi verificato con l'ausilio del personale della questura di Pordenone. L'uomo è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per uso di atto falso ed è stato contravenzionato per guida senza patente, con una sanzione da 5.000 a 15.000 euro. È stato inoltre ordinato il fermo del veicolo per tre mesi. La donna è stata invece sanzionata per l'incauto affidamento del veicolo ed è stata segnalata al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento, parliamo di esport. Esport lo facciamo in maniera così puntuale e precisa relativamente al calcio con l'amico Giuseppe Palomba, responsabile di tutto Pordenone.com. Grazie dottore, grazie per essere tornato in nostra compagnia. Non c'eravamo ovviamente a parlare il post partita, il post partita quando il Pordenone calcio è uscito a testa alta comunque dalla sfida playoff, la semifinale con il Frosinone, un risultato che è costato caro, l'uscita quindi di scena e degli uomini di Tesser. Tesser è riconfermato in panchino, l'abbiamo letto ieri e tra le altre cose tu la settimana scorsa, mi ricordo ti eri sbilanciato, avevi detto ci sono dei forti rumor perché possa tornare in panchina Tedino. Perché non si è fatto questo avvicendamento secondo te. Allora intanto io avevo detto anche che su Mr. Tesser era forte l'interesse del Bari De Laurentiis che vuole a tutti i costi portare questa squadra blasonata del Sud Italia nella cadetteria e quindi in Serie B. Serie B che ha perso nella finale playoff contro la Reggiana che invece è ritornata in Serie B dopo 20 anni. L'ipotesi Tedino era più una suggestione perché Tedino oltre ad aver fatto un ottimo biennio nella sua gestione conquistando come sorpresa come è successo quest'anno al Pordenone di Tesser. Due semifinali playoff, una persa meritatamente col Pisa all'epoca di Gattuso che poi ha conquistato la Serie B. L'anno successivo l'ha persa col Parma e tutti ci ricordiamo come è andata a finire col Parma, un Pordenone che meritava la Serie B ancora quattro anni fa. Alcuni errori arbitrali purtroppo hanno lasciato i ramarri ancora in Serie B. La notizia del giorno sì è quella infatti nella tarda mattinata di ieri è arrivata l'ufficialità che Tesser ha sposato i colori nero-verdi fino al 2022. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la società vuole secondo me puntare ancora ai playoff anche l'anno prossimo anche perché Tesser oltre al Bari aveva anche altre pretendenti per cui se Tesser sposa il progetto nero-verde e il Pordenone sposa il progetto Tesser ci sono dei programmi interessanti e adesso bisogna vedere solamente la società come si muoverà sul mercato perché purtroppo due pedine importanti come il portiere Michele Di Gregorio, proprietà Inter, ritorna a casa ed è appetito da molte società di Serie A e la sorpresa del campionato Pobega ritornerà al Milan e anche lui forse addirittura resterà nelle fila rossonere in quanto sicuro farà la preparazione con il Milan per cui bisognerà già puntare a sostituire queste due pedine importanti che tanto bene hanno fatto in questa meravigliosa cavalcata del Pordenone nel primo anno in Serie B. Inoltre ci sono tutti i prestiti che rientreranno nelle loro società di appartenenza, vedi Strizzolo ritornerà a Cremone, la cremonese già ha dichiarato più volte che non vuole lasciarlo più andare via nonostante Strizzolo secondo me abbia la volontà di rimanere qui a Pordenone in quanto lui è udinese e friulano e sente molto questa maglia, poi soprattutto dopo questa magnifica annata che ha condotto. Bisogna adesso vedere cosa succederà, come si muoverà il direttore sportivo Berrettoni e il responsabile dell'area tecnica Matteo Lovisa perché Tessere sicuramente darà delle indicazioni per come sostituire questa gente che magari non farà più rientro al De Marchi. Ritornando invece a quello che è successo giovedì scorso a Frosinone, si è risultato un po' a sorpresa col Frosinone scusami, no a Frosinone, risultato un po' a sorpresa dopo l'andata vinta in trasferta dal Pordenone. Purtroppo 15 minuti dove c'è stato un blackout del Pordenone, ma 15 minuti come ho già detto anche su tutto Pordenone che non devono però togliere i meriti a tutto quello che di grande hanno fatto questi ragazzi, questo allenatore e questa società in questo primo anno di Serie B. Perché parliamoci chiaro, da neopromossa, da matricola, arrivare quarti in classifica, arrivare poi in semifinale playoff e soprattutto far sognare una città intera, me compreso, è una cosa che va oltre tutto quello che noi potevamo immaginarci a settembre dell'anno scorso. Diciamo solo chiaro Giuseppe, l'obiettivo di Loviso era anche quello di fare il balzo in serie anche per una questione economica. Ecco infatti io ho letto le dichiarazioni, ho letto tra le virgolette le dichiarazioni di Loviso a freddo subito dopo la partita perché è chiaro, non andando in Serie A Loviso ragazzi perde 15-20 milioni, ci può stare perché se tu vinci un campionato di Serie B e hai 15-20 milioni se permetti non solo puoi fare un programma economico importante per la tua società, magari la puoi anche rendere più solida rispetto alla situazione attuale e perché no puoi anche pensare di farti lo stadio in città da solo senza aspettare capitali che vengono da fuori. Tra l'altro c'è da dire che oggi è comunicato proprio della società delle ore 17 è entrato una grossa ditta della provincia di Pordenone come socio del Pordenone, la Bortolin Chemo, per cui si rafforza anche l'asse societario, vuol dire che davvero questa società il presidente Loviso ha intenzioni importanti per il futuro della sua società. Faccio un'ultimissima domanda, erano orbitate, erano girate delle voci negli ultimi giorni di un possibile passo indietro di Loviso e l'acquisto di altre persone della società. Conoscendo il presidente io dico che oggi lui oltre il 49% non vende, non vende perché credo che lui, cerco di capire il suo pensiero, il suo modo di pensare, nel senso che questo progetto lo ha preso in carico 13 anni fa, lo ha preso dai dilettanti, dai campi di periferia e lo ha portato dai professionisti fino a cullare il sogno serie A, per cui lui è anche orgoglioso di quello che ha fatto, come è orgogliosa la città e come lo è orgoglioso anche noi addetti ai lavori. E credo che oggi per quello che di importante ha creato lì al centro dei marchi, soprattutto come centro sportivo giovanile, in quanto è una delle società più appetite, soprattutto per quanto riguarda i giovani e che riesce a piazzare anche dei ragazzi nelle società di serie A, credo che oggi il presidente è oltre il 49% di quota, lui non ceda, a meno che non ci siano grossi problemi finanziari, ma credo che non ce ne siano perché altrimenti non avrebbe optato per Tesserra ancora per altri due anni e comunque essere piombato sul mercato in maniera decisa. Grazie Giuseppe, ci vedremo la settimana prossima, io la settimana prossima col collega Conforti che mi sostituirà, io mi senterò per qualche giorno, credo arriverà il momento proprio che voi parliate anche della ripresa dei campionati, soprattutto quelli minori, perché è il calcio ruspante, che forse anche alla gente interessa un po' di più. Ne approfitto perché dopo seguirà una nuova puntata dell'Angolo del Ramarro con un grosso personaggio di spicco, il collega del Gazzettino Roberto Vicenzotto, faremo un'analisi proprio sulla stagione appena conclusa con l'eliminazione del Pordenone, quindi con la semifinale playoff, però parleremo soprattutto di dilettanti, di come sarà e come avverrà questa ripresa causa normative Covid. Grazie, grazie Giuseppe. Per cui guardatelo. Ci vedremo nei prossimi appuntamenti, Giuseppe Palomba, responsabile di tutti, tuttopordenone.com Andiamo in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti, a quella linea mi sembra che Alessio anche poi abbia degli aggiornamenti da darci in tema Covid. Sì, grazie Alberto, hai detto bene. Prima di ovviamente parlare con l'ospite, un aggiornamento sui richiedenti asilo che insomma nella notte sono arrivati a Porto Gruaro, abbiamo sentito dal servizio all'incirca una quarantina, sono nove quelli che la Polizia di Stato è riuscita a rintracciare. Bene, l'aggiornamento riguarda la negatività di tutti questi nove al Covid-19, al coronavirus, lo rende noto l'ULS, sono stati sottoposti a tamponi ed è arrivato subito il risponso. Le indagini continuano, le ricerche soprattutto continuano per cercare insomma di arrivare a identificare e trovare gli altri che al momento sono ancora irreperibili. Bentrovato a Filippo Cigagna, assessore comunale a Meduna di Livenza, grazie per essere in nostra compagnia. Si parla di un bel gemellaggio che riguarda Meduna di Livenza con un comune insomma anche dalla storia importante. Esatto, appunto Meduna è il nostro sindaco in primis, grazie ai buoni rapporti con il sindaco di Sansepolcro, Mauro Corioli, sta provando a investire un gemellaggio a sfondo culturale con questo comune che ricordiamo a Dotti Natali a Piero della Francesca, noto pittore e esponente di riascimento e insomma un'offerta in più, poi quelli possono essere appunto gli abitanti di Meduna, quindi una nuova parte esperienziale. Ricordiamo che noi abbiamo comunque già un altro gemellaggio, quello con Seinfeld, un comune della Germania con il quale noi dialoghiamo ormai da parecchi anni, più di trent'anni, quindi speriamo di portare a casa anche questa nuova avventura. Ecco, io ci tenevo anche a parlare di attività sportive come tra l'altro poi siamo agganciati al direttore che parlava insomma del calcio che comincia a riprendere, dello sport rispante, della bellezza anche di così seguire i cosiddetti anche sport minori piuttosto che ovviamente quelli più ad alto grido. A Meduna di Livenza come vi state organizzando? Perché con il coronavirus non è facile far ripartire tutto. Esatto, proprio questo è un punto cruciale per la ripresa delle attività sportive tutte. Noi a Meduna stiamo muovendo in questa direzione, nel senso che per dare un'offerta ai ragazzini, per approcciarli già a quella che sarà la nuova stagione agonistica, quindi quella che speriamo potrà essere quella 2020-2021, abbiamo portato avanti con il Basket Motta, un mini camp dedicato, partirà il 31 agosto e durerà per circa due settimane, in modo che i ragazzini o chi volesse avere il desiderio di approcciarsi a questa disciplina, al basket, che rispetto al calcio è molto meno blasonato, abbia appunto la possibilità di avvicinarsi a questo sport. In secondo luogo poi il 30 di agosto abbiamo una bellissima, anche devo dire un moto d'orgoglio per noi, abbiamo il tredicesimo trofeo Meduna, praticamente si tratta di una corsa, un mountain bike, la prima in tutto il trimestre, quindi la prima nella provincia di Treviso, ma anche del Veneto stesso, che dà insomma l'avvio a quella che è la stagione ciclistica, per quanto riguarda appunto le due ruote, proprio a Meduna. E devo fare in questa sede i ringraziamenti sicuramente al Velo Club, alla Rota Velo Indonese e a tutti i volontari della protezione civile, la nostra polizia locale e a tutti coloro che in un certo senso fanno da cornice questo bello evento, che speriamo riesca anche Covid permettendo. Diciamo che è un po' una rinascita dopo mesi bui, si spera che possa essere anche il via libera verso una stagione nuova. Un guizzo di normalità che ci vuole. Che ci vuole come poi ci vuole anche per tutti gli altri sport. Grazie a Filippo Cigagna per essere stato con noi, linea Pordenaro Alberto. Siamo in attesa di avere Marco Putto e arriverà tra qualche istante, ci informano che quando c'è maltempo la Pontebana viene presa d'assalto, code in entrate, in uscita della città, insomma siamo sempre alle e solite. Allora io colgo l'occasione per farvi degli annunci importanti che riguarderanno la nostra emittente televisiva, perché settembre sarà un mese importante, importante perché cambieranno diverse cose, cambierà la programmazione, saremo ancora più forti, avremo nuovo personale, uno staff altamente qualificato. E vi accendo già a un'iniziativa, non vi dirò però la collaborazione con chi andremo a farla, ma torneremo a settembre con la rassegna stampa la mattina. Ore 6.30, in punto, sintonizzatevi sulla nostra emittente televisiva, canale 15, potrai vedere anche in streaming. E ci sarà un giornalista professionista di fama, non di fame, di fama, che si prenderà l'onere ogni giorno, insomma, di aggiornarvi su tutti i fatti che accadono da Trieste fino a Trento. Soprattutto, e Bolzano, quindi il Triveneto, soprattutto facendo un focus su quanto riguarda la questione friulana, la questione Friuli-Venezia-Giulia, Veneto-Orientale, quindi la lettura dei giornali, le ultimissime notizie, se è successo l'incidente mortale, l'incendio, altri rintracci di migranti, sarete i primi ad essere informati. Arriveremo prima di tutti, prima di tutti, perché tutti i competitor iniziano alle 7, noi addirittura alle 6 e mezza saremo già pronti a trasmettere le primissime notizie, quindi a settembre grazie a novità. E poi partiremo con un programma, puntate, 10 le puntate per il momento. Guardiamo un po' anche ad ampio respiro l'attualità. L'attualità è importantissima, rischiamo altrimenti di perdere un valore, un valore importante per la nostra regione, per il nostro territorio. E la prima puntata che sarà a fine settembre, inizio ottobre, riguarderà proprio il duplice omicidio, Trifone e Teresa. Sono passati cinque anni da quando barbaramente la coppia venne trucidata, Palacris a Fulli, fumo la prima televisione ad arrivare lì sul posto, immagini inedite. Ebbene, cercheremo di ripercorrere le tappe che hanno interessato proprio questa vicenda. Un motivo per non sul pezzo, è vero, non è passato di tempo, però ci sono degli aneddoti che ci verranno raccontati da dei testimoni che hanno accettato e accetteranno di essere intervistati. Come dicevo, insomma, uno staff giovane, nuovo. E poi io mi auguro, perché avevo l'amico Giuseppe Palomba, che riprenda anche Sport Nord-Est, magari sotto un'altra veste, sotto un'altra veste, perché magari quando da tanti anni fai un programma, un po' di svecchiamento ci vuole, è un processo lungo, però i ragazzi, li chiamo così, sono giovani ancora, hanno tante idee, Giuseppe Nazareno e Dario, e ovviamente io mi auguro, e colgo l'occasione perché ci sei qua, auguro che dopo il lockdown, che ha bloccato di fatto tutto, voi possiate tornare più forti, più competitivi di prima. Magari con due novità, perché i nostri telespettatori ci aspettano questo, è da causa, Carlo Giuseppe. Sì, sì, sicuramente, come avevo già detto proprio in una delle ultime puntate che siamo riusciti a fare, ritorneremo, ritorneremo con una formula diversa, una sorta di TG sportivo più ampio. Ovviamente la problematica è per le normative, quindi riguarderà poi gli ospiti in studio, non avremo più tanti bambini come sempre, ma avremo comunque degli ospiti a turno e tanti servizi, a partire dal Pordenone Calcio alle categorie minori, quindi fino alla terza categoria, con tutti i risultati dalla Serie A alla Serie B e tanti, tanti altri sport come abbiamo sempre seguito. Sarà una cosa un po' più di nicchia, più cronistica, meno spettacolare. Poi, tra le altre cose, era stato un po' trascurato, abbiamo ripreso l'attività del sito internet www.telepordenone.tv, aggiornato, non dico 24 ore su 24 perché la gente deve anche dormire la notte, non può mettersi lì ad aggiornare, però troverete sempre da questi giorni nuove notizie per essere informati di quanto succede in Friuli, Venezia e Giulia, in Veneto. La pagina Facebook, in un anno siamo cresciuti, abbiamo raddoppiato, se questi sono numeri ovviamente vuol dire che il buongiorno si vede dal mattino. Allora io ringrazio Giuseppe Palomba, facciamo sedere il sindaco di Azzano Decimo che nel frattempo ci ha raggiunto, io so già l'argomento, anzi immagino l'argomento, anche perché dal punto di vista umano è difficile trattare degli argomenti, ma quando si è un amministratore devi prendere una posizione. Ringrazio l'ingegnere Marco Puto, sindaco di Azzano Decimo, grazie per essere tornato in nostra compagnia. Grazie a voi direttore, grazie a lei. Grazie sindaco. La tematica immigrazione e Covid sono due temi che si intrecciano tra di loro e che sicuramente mettono un po' in apprensione non soltanto i cittadini ma soprattutto il mondo della politica e delle amministrazioni che deve dare delle risposte, a partire da che cosa? Sì direttore, ha detto bene, io sono reduce da qualche giorno di vacanza al mare e devo dire che sotto l'ombrellone ma più spesso nei social ho visto che questo tema, questa tematica veramente prende molto l'opinione pubblica. Sono due gli aspetti principali rispetto ai quali ho preso una posizione perché credo che un amministratore locale, al di là poi di gestire le emergenze come noi sindaci abbiamo dimostrato di saper fare, perché nel momento della difficoltà i sindaci hanno coordinato le emergenze in termini di gestione locale grazie ai tanti volontari a disposizione, della protezione civile soprattutto, dobbiamo anche dire la nostra perché altrimenti qua passano cose non vere. Primo tema, migranti, l'ha accennato lei. Allora io credo che non dobbiamo in questo momento perdere di vista quella che è la natura del problema contagio e capire da che cosa è scaturita. Non portiamo all'interno del tema sanitario quella che è la campagna elettorale della regione o quella che è l'opinione di ciascuno rispetto ai migranti. Mi spiego meglio. Ieri il presidente del Consiglio Superiore di Sanità ci ha detto che il contagio causato dai migranti vale su 100 circa 4, cioè il 4% del contagio totale è causato dai migranti. Non ci deve essere questo 4%, quindi io sono perché nessuno possa entrare in Italia se è positivo. Chi è positivo non deve entrare in Italia, meglio se sta al di fuori dei confini nazionali, nessuno deve portarci virus, deve portarci, chiedo scusa, contagio all'interno del territorio nazionale. Questo credo che sia un concetto di comune dominio, ma non diciamo che quello è il problema, perché sempre ieri c'è stato spiegato che il 40% del contagio è stato determinato da chi è andato all'estero e poi è entrato in Italia. Il restante 40 più 4 fa 44, la parte che resta per arrivare a 100, 66, quindi circa il 65%, sono comportamenti scorretti in termini di distanziamento sociale a cui tutti siamo accomunati. Quindi questo è il tema, ecco perché l'ordinanza ministeriale e la preoccupazione della comunità scientifica non devono lasciarci indifferenti, non lasciano indifferenti noi amministratori locali che poi quelle cose le dobbiamo gestire, ma neanche l'opinione pubblica deve rimanere indifferente rispetto a questo. Sono cose semplici, vengo da mercati e da altre iniziative direttore pubbliche, la gente indossa correttamente la mascherina sempre, è passata, facciamo che questa cosa passi anche nel momento del relax e del divertimento, non ci vuole molto. Secondo tema, concludo, minimizzazione del tema contagio. Molti stanno dicendo che i contagi, i contagiati, chiedo scusa, non sono ammalati e fino a che non ci saranno tanti ricoveri o le terapie intensive rimarranno vuote, non dobbiamo preoccuparci. Ricordo che fra meno di un mese si muoverà un esercito di circa 10-15 milioni di persone legate alla scuola, più tutti quelli che vanno a corollario rispetto a questo mondo, servizi, trasporti eccetera eccetera. Non possiamo permetterci con un trend di contagio che nell'ultima settimana ha visto 3.350 nuovi contagiati, di far finta di niente e di dire che questo è tutto terrorismo. Dobbiamo preoccuparci, dobbiamo farlo calare. Io capisco quelli delle discoteche, so quanto è doloroso rinunciare al lavoro e il governo deve dare risposte certe, più veloci ancora di quelle che sono state date in passato, anche in termini di ristoro economico, perché tutti devono mangiare e tutti hanno una famiglia. Ma quel tipo di contagio, quel tipo di assembramento, piuttosto che tutto il resto che è stato appunto individuato con questa ultima ordinanza, dobbiamo assolutamente ridurlo o eliminarlo. Qui c'è in gioco la ripartenza del Paese. Io voglio e tutti noi vogliamo che le scuole ripartano e vogliamo che le terapie intensive rimangano vuote. Ecco perché non dobbiamo minimizzare. Con un po' di buon senso e di buon comportamento sono convinto che ce la faremo e quella sarà la direzione giusta. Io sono d'accordo con il sindaco Marco Puto e non sono schierato politicamente con nessuno ma condivido, anzi provo rabbia, ecco perché frequento sempre meno i social network, qualcuno mi scrive in privato, ma perché non scrivi, perché non posti? Io sono deluso da quanti quotidianamente invadono i social dicendo è finita, non dobbiamo preoccuparci, andremo avanti comunque, governo di sciacalli, di ladri, volete la morte del Paese. Io rabbrivitavo rabbrivitavo, avendo tra le altre cose una biologa in casa, alias mia moglie, rabbrivitavo il solo pensiero di leggere certi messaggi, anche perché il passo dalla scrittura al messaggio al pensiero, e Facebook il messaggio viene veicolato da migliaia se non milioni di persone, sono terrorizzato effettivamente dal messaggio che poi diffondiamo urbi e torbi e soprattutto facciamo presa, facciamo presa sulle persone che non hanno le competenze specifiche e soprattutto caro sindaco si lasciano un po' abbindolare, o magari una questione di comodo, ecco per quello mi sto allontanando un po' dai social network, vedendo poi anche dei dibattiti sterili che davvero per i quali provo eterna pena. Grazie, grazie davvero a Marco Putto, sindaco di Azzano Decimo, chiudiamo qui questa edizione del telegiornale, a seguire le previsioni del tempo, un breve break pubblicitario e poi tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Grazie ancora per essere stati con noi. Buonasera, per quanto riguarda la circolazione atmosferica, le correnti occidentali instabili stanno lasciando posto a correnti da nord che domani saranno un po' più stabili, quindi situazione per domani di cielo in genere poco nuvoloso sulla regione, diminuisce la possibilità di temporali, anche se non si esclude che nel pomeriggio vi sia qualche episodio sulle prealpi, qualche isolato rovescio temporalesco è possibile e anche sulle zone orientali. In montagna, sulle Alpi, la possibilità nel pomeriggio di qualche breve pioggia locale, però in un contesto in cui senz'altro la mattina il tempo sarà decisamente buono. Per quanto riguarda le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi nel pomeriggio in pianura, 28 per quanto riguarda la costa, minime intorno ai 18-19 gradi in pianura dai 20 ai 23 sulla costa. Per giovedì cielo poco nuvoloso o al più diciamo variabile di primo mattino, poi dal pomeriggio potrebbe anche prevalere il sole pieno, questo perché ci sono delle velature in quota causate dall'arrivo dell'anticiclone, anticiclone che porterà stabilità da giovedì fino a sabato. Venerdì avremo caldo, cielo sereno con temperature che torneranno avvicinarsi nel pomeriggio in pianura ai 35 gradi, quindi un caldo affoso con molta umidità, affoso sarà anche lungo la costa sebbene con venti di brezza. Sabato ci sarà ancora l'anticiclone e il gran caldo, sempre affoso, dal pomeriggio di sabato i primi temporali saranno possibili in montagna, poi vedremo se verso domenica interesseranno anche la pianura, ma su questo ci torniamo domani per essere più precisi e intanto vi auguro una buona serata. Ben ritrovati dunque cari telespettatori dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste, partiamo con la cronaca, un ventenne pakistano evade dalla ex caserma Kavarzerani per spacciare, vediamo il servizio. Nella notte la polizia di stato ha arrestato a Udine un ventenne pakistano, ospite in quarantena dell'ex caserma Kavarzerani. Il giovane poco dopo le 4.30 era uscito dalla struttura scavalcando il muro perimetrale, sfruttando il buio e dandosi alla fuga attraverso la linea ferroviaria. L'uomo è stato intercettato da una pattuglia dell'esercito impegnata nella vigilanza ma non è riuscita a raggiungerlo. Un'ora dopo i militari lo hanno bloccato mentre tentava di rientrare nell'ex caserma arrampicandosi sul muro nello stesso punto da cui era uscito in precedenza. Avuta certezza che si trattava dello stesso giovane che si era allontanato in precedenza, gli agenti della polizia hanno ipotizzato che stesse cercando di introdurre oggetti o materiali non consentiti nella struttura e lo hanno sottoposto ad un minuzioso controllo. Si è così scoperto che in una scarpa al ventenne aveva nascosto un panetto di 100 grammi di hashish del tipo pongo di ottima qualità. È stato quindi arrestato e su disposizione del PM di turno della procura di Udine Viviana del Tedesco è stato portato in carcere a Gorizia. Ancora per la cronaca si fingono turisti in viaggio ma nel camper hanno 26 migranti. È arrestata nella notte una coppia di passeur che viaggiava con il mezzo stipato di clandestini. Vediamo il servizio di Alex Zamont. Fingevano di essere una coppia in vacanza in camper ma a bordo del loro mezzo trasportavano in realtà migranti in arrivo dalla rutta balcanica. I due, un uomo kosovaro con regolare permesso di soggiorno e una cittadina italiana di Etnia Rom residente a Tivoli, sono stati fermati per un controllo questa notte mentre percorrevano l'autostrada A4. Dopo essere stato individuato tra il territorio di Gorizia e di Udine, il mezzo è stato fatto fermare in un'area di servizio. Il controllo ha permesso di scoprire che a bordo c'erano stipati 26 migranti. I due passeur sono stati arrestati e portati rispettivamente in carcere a Trieste e a Udine. Per i clandestini minorenni rintracciati si sta cercando di individuare idonee strutture per accoglierli. Mentre per i clandestini maggiorenni la questura di Udine sta puntando alla riammissione informale in Slovenia. Un'altra perturbazione che dovrebbe essere l'ultima per questa settimana interessa tutta la nostra regione. Vediamo il servizio. Ancora tempo instabile su tutta la regione dove questa sera è in corso il passaggio di un nuovo fronte temporalesco. La protezione civile regionale ha diremato una nuova allerta meteo di livello giallo su tutto il Friuli Venezia Giulia per piogge localmente intense e temporali anche forti fino alla mezzanotte di oggi. L'instabilità di questi giorni è accentuata dalle correnti occidentali atlantiche che interagiscono con l'aria calda e umida presente sul nord Italia. Nella seconda parte della settimana invece ritornerà l'anticiclone caldo. Tra la notte e la giornata di ieri si sono registrati molti disagi nelle province di Udine e Gorizia. A causa del maltempo un'imbarcazione a largo di grado si era capovolta a causa del mare grosso improvviso. Numerosi alberi sono caduti nel Friuli occidentale dove si è scaricata una vera e propria bomba d'acqua. Mentre a Cervignano si segnalavano rami pericolanti e piante sulla carreggiata. Anche a Udine si sono avute piante schiantate dal forte vento e parte dell'intonaco di un'abitazione è caduto a terra in via Aquileia. A Bertiolo un palo della linea telefonica è caduto in strada. A Codroipo si sono registrati allagamenti diffusi in abitazioni e sulla viabilità. Una bella notizia che arriva da Trieste dove due ragazzi hanno ideato una app in grado di salvare gli oceani dalla plastica. Vediamo il servizio. Plastic Catchers, una app per salvare gli oceani. E' questa l'idea di Leonardo Marcuzzi e Marco Mallardi, compagni di classe al liceo scientifico Galileo Galilei di Trieste, indirizzo Scienze applicate. Plastic Catcher è un gioco molto semplice e la base è raccogliere la plastica evitando ostacoli. La plastica raccolta è anche la valuta all'interno del gioco e viene utilizzata per comprare altre barche, riciclarla per potenziamenti e anche scambiarla per plastica reale riciclata. Gli acquisti fatti nel gioco vanno direttamente nella raccolta della plastica. L'obiettivo è quello di arrivare ai 5.000 euro che serviranno per portare a termine Plastic Catchers. I due ragazzi spiegano che se la cifra dovesse essere molto maggiore, hanno in mente di creare una versione per le scuole per insegnare ai ragazzi a raccogliere la plastica. Se l'applicazione avrà successo sperato, ci potrebbe essere la possibilità di rimuovere dagli oceani qualche centinaia di chili di plastica, ossia qualche migliaia di bottiglie di plastica da un litro e mezzo. I due ragazzi sono molto fieri della loro creazione, dalle immense potenzialità e sono sicuri che potrà ispirare anche altre persone e potrà insegnare qualcosa sul riciclo ai più piccoli. Friuli, Venezia, Giulia e Veneto stringono un'alleanza per la tutela e lo sviluppo delle lingue minoritarie e delle reciproche varietà linguistiche. E quanto stabiliscono due delibere approvate all'inizio di agosto dalle rispettive giunte con cui le due regioni hanno dato il via libera ad un accordo di collaborazione per la tutela e per lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale della componente friulanofona della regione del Veneto e venetofona della regione autonoma Friuli, Venezia, Giulia. Presupposto dell'accordo che attiva una collaborazione richiesta da anni dalle comunità locali e l'uso della lingua friulana anche in aree circoscritte dei comuni veneti di Concordia Sagittaria, Fossalta di Porto Gruaro, Gruaro e Porto Gruaro, ma anche come riconosciuto nel 2006 dal Consiglio Provinciale di Venezia nei comuni di San Michele Tagliamento, Teglio Veneto e Cinto, Cao Maggiore. Allo stesso modo in Friuli, Venezia, Giulia persiste l'uso di dialetti veneti che la regione è tenuta a valorizzare in base alla legge regionale 5 del 2010. Nonostante le limitazioni da Covid-19 proseguono le manifestazioni e gli eventi in tutta la regione con un occhio molto attento alle restrizioni. Appuntamento a Lignano con la rassegna incontri con l'autore e col vino. Vediamo il servizio. Sarà lo scrittore e professore Enrico Galliano, il protagonista giovedì prossimo a Lignano, nell'ambito della rassegna incontri con l'autore e con il vino 2020. L'autore che dà voce ad un'intera generazione di adolescenti presenterà il suo recente libro Dormi stanotte sul mio cuore, edito Garzanti, è pronto a lasciare il segno. L'appuntamento è alle 18 e 30 nel consueto spazio al Palapineta, nel Parco del Mare, a seguire la degustazione del friulano DOC Friuli 2018 dell'azienda Modeano di Palazzolo dello Stella, il vitigno autoctono che rappresenta il territorio friulano più di ogni altra varietà. A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 i posti sono limitati e sono vietati gli assembramenti. All'ingresso verranno richiesti al pubblico i dati personali che saranno conservati per 14 giorni. L'ingresso alla manifestazione è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Ringraziandovi per essere stati con noi, per ora è tutto dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste, la linea passa al collega del Veneto. Ben ritrovati dalla nostra redazione del Veneto, continua l'informazione di Telepordenone, 6.000 persone in isolamento. Questo il dato che emerge dal bollettino odierno di Azienda Zero sull'andamento del Covid-19 in Veneto. 7 persone ricoverate in terapia intensiva e 1.688 positivi in tutta la regione. Sono 37 i nuovi casi rispetto al bollettino di ieri. Invariato il dato sui decessi. Le province con più casi sono Treviso, Padova, Venezia, Verona e Vicenza. Situazione più tranquilla invece nel Bellunese e Rodigino. La pandemia da Covid-19 nel mondo è entrata in una nuova fase in cui è spinta da contagi nei giovani sotto i 40 anni e con un maggior rischio per le fasce più vulnerabili. Lo ha detto Takeshi Kasai, direttore dell'Ufficio del Pacifico Occidentale e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In una conferenza stampa l'epidemia sta cambiando, ha affermato, e le persone di 20, 30, 40 anni stanno sempre di più pilotando la diffusione. Molti non sanno di essere infetti e ciò aumenta il rischio di contagio. L'osservazione sull'età dei contagiati vale anche per l'Italia, come ha confermato l'ultimo report dell'Istituto Superiore della Sanità, riferito alla settimana fino all'11 agosto, che ha registrato un'età media dei nuovi casi attorno ai 34 anni. E una quarantina di richiedenti asilo è arrivata nella notte a Porto Grualo. La maggior parte si è resa irreperibile, nonostante i controlli e le ricerche proseguite nel corso della giornata, non solo a Porto Gruaro, ma anche nei territori limitrofi. Gruaro, Concordia Sagittaria, Cinto Cao Maggiore. Bene, secondo quanto riporta il Comune di Porto Gruaro in una nota, i richiedenti asilo sarebbero stati portati da un camion e fatti scendere al casello autostradale della città dell'Emene. Il sindaco Maria Teresa Senatore ha espresso al vice prefetto di Venezia tutte le preoccupazioni del caso relativamente ai cittadini extracomunitari arrivati in città e scesi nelle vicinanze di Viale Pordenone. In corso, anche in serata, le identificazioni e il fotosegnalamento da parte dell'Ufficio Stranieri del Commissariato di Porto Gruaro per una quindicina di soggetti di nazionalità pakistana. Il sindaco ha espresso, come detto, le preoccupazioni alla Prefettura in considerazione del particolare momento collegato all'emergenza del Covid-19 auspicando un'intensificazione delle operazioni di controllo sin dalle zone di confine e lungo l'asse autostradale che partendo dal confine sloveno arriva sino alla città dell'Emene. Controlli nelle stazioni del Veneto da parte della Polizia Ferroviaria a più di 2.300 persone identificate. Nella settimana di ferragosto non mancano le denunce. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio. È di 2.349 identificati il bilancio dei potenziati servizi di controllo attuati dal personale della Polizia Ferroviaria per il Veneto durante la settimana di ferragosto. In concomitenza con l'aumentato flusso di viaggiatori è stata infatti intensificata l'attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, in particolare negli scali di Padova, Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia, dove gli operatori si sono adoperati anche per far rispettare le norme anti-covid. Denunciate all'autorità giudiziaria 14 persone, in particolare nella stazione di Mestre gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno proceduto nei confronti di due persone per rifiuto a declinare le generalità e nei confronti di altre due per resistenza pubblico ufficiale e per una di queste anche per oltraggio. A Padovan, 31enne libico privo di documenti e di permesso di soggiorno è stato indagato per inosservanza della normativa sull'immigrazione e un suo connazionale per atti osceni nei confronti di un minore. Un altro straniero è stato indagato per rapina. Sono state emesse inoltre due denunce per violazione del divieto di ritorno a Padova, una per rifiuto di fornire le generalità e una per violazione del daspo urbano. Nello scalo della città del Santo è stata anche rintracciata una 25enne nigeriana che, già risultata positiva al coronavirus, era fuggita dal locale ospedale nei giorni precedenti. La giovane, individuata e fermata da una pattuglia della Polizia Ferroviaria di Padova, è stata denunciata per il reato di epidemia colposa. Infine, nella stazione di Conegliano è stato denunciato un cittadino tedesco che aveva colpito il capotreno durante il servizio di controllo. Per tornare ai livelli pre-Covid e a vedere la luce bisognerà aspettare la fine del 2021 secondo la Confartigianato del Veneto. Il dato emerge da una ricerca nella quale metà dei 1.500 imprenditori intervistati tra il 1 e il 5 agosto vede il ritorno ai livelli di precrisi non prima di dicembre del prossimo anno. Nel report della Confartigianato sulla recessione realizzato a due mesi e mezzo dall'uscita dal lockdown, i numeri che restituiscono una fotografia di un artigianato veneto colpito al cuore ma con la volontà di ripartire in questo momento in cui il 76,2% dichiaria che il suo obiettivo principale è la continuità aziendale. Sanità, chirurgia della frattura al collo del femore, Sandona di Piave si attesta a livello nazionale. Lo rende noto la Regione che riconosce con soddisfazione l'eccellenza della chirurgia per la frattura del collo del femore a seguito del report di Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Un plauso è arrivato da Palazzo Valli. Movida violenta a Iesolo con una rissa. L'altra notte il cui bilancio è stato di diversi feriti ma anche di un trentenne alto attesino ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Sandona di Piave con diverse fratture. La Polizia di Stato indaga per cercare di identificare i responsabili e intanto il sindaco della località balneare Valerio Zoggia valuta di richiedere il risarcimento per il danno d'immagine. Fa un appello a tutta la popolazione, ai turisti, al mondo delle istituzioni. Quanto è accaduto la sera scorsa a Iesolo, dice il primo cittadino, e quello che accade sempre di più spesso in tutto il paese mi porta a dire che i giovani hanno perso il senso del limite. Troppo spesso la ricerca del divertimento sembra passare per l'abuso di alcolici. Troppo spesso la risposta a uno sguardo di troppo o una frase sbagliata passa per la reazione fisica e violenta e questo accade non solo tra i giovanissimi ma anche tra gli adulti dai quali ci si aspetta maggiore senso di responsabilità e maturità. A tutto questo non si può continuare a dare responsabilità alla politica o alle forze dell'ordine che stanno dando il massimo per tutelare l'ordine e la sicurezza e che non possono sostituirsi alla responsabilità personale. Occorre che la società affronti sul serio il problema di questo modo di vivere dei giovani che ne indaghi a fondo le ragioni e ne trovi le soluzioni. La politica e le istituzioni ci sono e possono collaborare ma occorre che tutti, dice il sindaco di Jesolo, si sentano parte delle educazioni dei giovani, nessuno può chiamarsi fuori. L'autopsia di Alessandra Gabbana, la 44enne di Bruniera originaria di Lutrano, deceduta per un malore giovedì scorso mentre era in vacanza a Jesolo, è stata eseguita nella cella mortuaria di via Friuli a Porto Gruaro presso l'ospedale Cittadino. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia, da quanto sembra nulla osta per i funerali, tuttavia non è ancora arrivato. In Veneto orientale sono 513 invece le persone che a rientro dalle vacanze in Croazia, Grecia, Spagna e Malta tra il 15 e il 17 di agosto si sono presentate nei due ambulatori allestiti tra San Dona e Porto Gruaro per effettuare i tamponi in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute, delle persone registrate nelle due sedi, quella di Porto Gruaro e San Dona, oltre il 90% rientrava dalla Croazia e solo due sono le persone risultate positive. Sentiamo il bilancio tracciato da Lorenzo Bulegato, responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria. Come previsto dal decreto del Ministero della Salute, queste persone a rientro in Italia devono eseguire un tampone nasofaringeo entro le 48 ore e comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente. La nostra ULS ha attivato due postazioni, due ambulatori con accesso dalle 7 della mattina alle 13 e finora abbiamo eseguito 513 tamponi di cui finora dai risultati, dai referti che abbiamo avuto ci sono solamente due casi positivi. La maggioranza nel nostro territorio fa rientro dalla Croazia, circa il 90%, poi abbiamo la Spagna, alla Grecia e infine Malta. Sì, stiamo appunto prevedendo anche un'apertura nel corso di questa settimana, verso fine settimana, anche per la sede di Jesolo, di un ambulatorio che avrà le stesse modalità di accesso, cioè accesso libero dalle 7 alle 13. Coloro che effettuano il tampone devono stare in isolamento fiduciario a casa fino all'esito. Poi naturalmente se malauguratamente dovessero risultare positive, queste persone seguiranno l'iter delle normali persone che risultano positive e quindi inizieranno i 14 giorni di isolamento previsti e poi potranno essere liberati solo dopo l'esecuzione di due tamponi che risultino negativi. A Fossalta di Portogruaro campagna di raccolta adesioni alla copertura assicurativa per nuclei familiari contro furti e rapine. Lo rende noto il Comune che fa sapere che l'amministrazione offre ai cittadini la possibilità di copertura assicurativa contro i danni causati da atti vandalici ma anche rapine e furti nelle case per il periodo 2020-2021 proponendo la sottoscrizione di un'apposita assicurazione il cui costo è di 25 euro. Il modello di adesione dovrà essere inoltrato a mezzo mail all'indirizzo protocollo Le somme assicurate sono i beni di proprietà dei componenti dei nuclei residenti nel Comune di Fossalta di Portogruaro come a titolo indicativo e non limitativo, arredamento, attrezzatura, macchine, macchinari elettrici ed elettronici, vestiari, oggetti di valore artistico ma anche libri e merci vari e fino a un massimo per anno assicurativo di 1.500 euro ma anche denaro il seguito dell'assicurato purché prelevato e dimostrato da banca opposta entro due giorni dall'operazione effettuata fino a un massimo di 500 euro, infine i guasti cagionati dai ladri atti vandalici fino a un massimo di 3.000 euro, pronuqueo familiare e per anno con il limite di 1.000 euro per sinistro. Tutte le informazioni nel sito dell'amministrazione comunale. Sandona di Piave, da oggi la polizia locale ha a disposizione due nuove biciclette, sono operative due mountain bike elettriche in dotazione al comando sandonatese che andranno a incrementare il parco mezzi composto da due Fiat Punto, un Alfa Romeo Giglietta, una Fiat Bravo, un furgone mobile Fiat Scudo ma anche una Fiat Tipo con cella di sicurezza e due motociclette BMW. Una scelta di vicinanza ai cittadini, dice il Comune, in particolare per quanto riguarda i servizi di prevenzione e controllo è importante avere strumenti flessibili che permettano spostamenti rapidi anche in zone con elevata presenza di pedoni. Con questo gesto la polizia locale può svolgere servizi di vigilanza nei parchi cittadini dell'area golenale e delle aree verdi per dare il suo contributo alla tutela dell'ambiente e alla sua sostenibilità. Queste le parole del comandante Paolo Carestiato. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio alle nostre previsioni del tempo, buon proseguimento con la nostra programmazione, la serata come sempre è ricca su Telepordenone, ci rivede come sempre puntuali domani alle 19 con il telegiornale del Nordeste. Arrivederci. Tempo previsto per mercoledì 19 agosto, giornata con cielo poco a tratti parzialmente nuvoloso e con attività cumuliforme sui monti. Precipitazioni generalmente assenti, salvo una probabilità bassa 5-25% di isolati piovaschi rovesci nella seconda parte della giornata, più che altro sulle prealpi. Temperature minimi in lieve o contenuto calo, massime in lieve o contenuto aumento sui valori prossimi alle medie del periodo. Venti, in pianura e nelle valli generalmente deboli di direzione variabile, con moderati rinforzi per brezze sulla costa e nelle valli, in quota deboli da Nord-Ovest. Mare poco mosso. Musica Musica Autore dei sovrapposti